scendono in campo le squadre al Baggio Park si sfidano oggi a Cipicchia contro FC Perego partita che promette un grande spettacolo ecco l'ingresso dei giocatori un saluto tra di loro anche siamo carichi allacciatevi le cinture ci attende tantissimo calcio parte subito il Perego prova a costruire sulla destra tocco centrale sbagliato però ne può approfittare allora la Cipicchia calcio d'angolo per gli orange il colpo di testa si salva il Perego ancora il picchia prova a sfondare sempre sulla di destra Tanci ma che gol che diagonale spettacolare ed è 1-0 a Cipicchia ancora la Cipicchia Tanci pressato ci prova a Cutrera deviato ancora la Cipicchia prova a sfondare questa volta centralmente facciamo vedere Pignataro non è che arriva a Cutrera prova a girarsi ancora la Cipicchia ancora la Cipicchia solo per un attimo però sono confusa mette giù palla benissimo prova a Pignataro che scarica sulla destra Cinelli mette in mezzo esce il portiere la Cipicchia la Cipicchia battere questo pallone inizio il secondo tempo ci provano subito gli orange a farsi pericolosi inizione deviata la palla resta lì esce bene il portiere rilancio cerca dei bomber non è che in qualche modo diventa buono per Morpurgo poi lo scarico triangolo si chiude palla poi messa in mezzo manza ancora la Cipicchia sempre con Ricci c'è ne pergo tocco centrale si cerca addirittura la conclusione da fuori deviata la palla rimane lì ronchi ronchi segna lui 2-1-1 quindi non si tratta di ronchi che sono scambiati la maglietta la Cipicchia la Cipicchia è pronto lo schema probabilmente è andato anci parato inizione per il perego destro tra angolo si 1-28 c'è 1-25 to ancora la Cipicchia sempre con Ricci il tacco cerca lo scarico inizione molto elaborata prova ora il tocco centrale la girata in qualche modo passa di nuovo in vantaggio con Cutrera la Cipicchia gran gol ancora il perego sfonda sulla destra contro piede perfetto vediamo come si finalizza esce il portiere la palla è buona il destro non trova il gol si abbracciano gli orange il perego la Cipicchia il tocco la ricerca di Pignataro il tocco pallone messo in mezzo prova la rovesciata per poco trova il gol non è finita però l'azione il tocco poi centrale e la palla che solta entra Morpurgo c'è insistita la Cipicchia trovano il gol quindi si abbracciano gli orange gran girata davvero bomber dare di rigore Vantura ci picchia prova a sfondare sulla sinistra al destro prova il perego costruire l'azione col capitano che avanza scarico laterale l'azione molto elaborata angolo battuto ora palla messa fuori brecca allora della Cipicchia che sprecano però tutto